Ups a tutti, 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 miei cari Upsini e Upsine, come state? Come state? Io spero molto molto bene, spero siate pronti a rilassarvi, perché oggi faccio un altro video richiesto da voi, potrei iniziare se riesco a fare un po' più video richiesti da voi. Nel caso di oggi farò un po' di lead sounds. Cercherò però di non farvi annoiare, perché un intero video solo con questo trigger può annoiare. Ho un bel po' di oggetti e sperimenteremo diversi tipi di lead sounds. Quindi subito indossa un paio di cuffie o auricolari, quello che vuoi. Stenditi sul tuo letto e preparati a chiudere gli occhi, va bene? Io allora inizio. Allora i lead sounds sono il suono che fa un tappo, un coperchio di qualcosa. E ho scelto come primo trigger questo gel touch di Lush. Buonissimo. Farò ogni trigger per un minuto, due minuti. Così non vi annoiate perché ho un bel po' di trigger. Io vi dico, a me piacciono i lead sounds. E magari mi potete scrivere nei commenti qual è stato il vostro preferito, perché ce ne sono alcuni che hanno ovviamente suoni diversi. Ok, fatemi vedere poi in ordine cosa devo fare, perché ho tutto scritto. Acqua perfumata di Sol de Janeiro. Ho preso la mia preferita, la A62. Troppo buona. E niente, intanto raccontatemi qualcosa di voi. Soprattutto per quanto riguarda noi ancora studenti, come è andata la prima settimana praticamente. Perché, per chi non lo sapesse, io quest'anno sto facendo l'ultimo anno del liceo. Quindi a fine anno avrò la maturità. Aiuto, ma ci penseremo poi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. ати qua. Questa. 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 Spettolina. Questa. 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 Svetolina. Questa. in un video in uno di nano smr che lei usava anche gli ishia io non so come li chiamate voi questi io ho sempre detto shanghai però non so come si chiamano e faceva anche anche questo come lit sound no Aspettate qui, e ne metto il copericolo questo è un po' più strano, non il mio preferito ma ho voluto provare, secondo me c'è questa, ho un po' la gola secca, però vabbè, ci sei? Ok, prossimo ho un lipgloss di Shilam mi piace un sacco il pecc e è veramente ipnotizzante il suono ok, lo metto via ma non abbiamo mica finito perché ho ancora un po' di trigger da fare poi una cosa che a me piace un sacco come suono di lead sounds i barattolini di questa forma io li adoro ne ho uno piccolo e uno grande per dopo non è un po' di più 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 mi piaceva troppo non è un po' di più non è un po' di più il mio preferito il mio preferito di trigger è stato il primo che ho fatto perché quello vi giuro stupendo secondo me è un po' di più mi piaceva mi piaceva E comunque sì, quando questo video verrà pubblicato io avrò fatto praticamente una settimana di scuola. Una settimana e un giorno, per essere precisi, ma vabbè, spero che andrà tutto bene. Quest'anno sarà tosto, ce lo so, ma lo affronteremo al meglio. Io farò in modo di usare un po' l'ASMR e un po' voi come i miei psicologhi, o psicologi, psicologhi mi sa, per non impazzire. Così faccio qualcosa di divertente e rilassante insieme a voi. C'è un po' l'ASMR e un po' l'ASMR. C'è un po' l'ASMR. Bello, interessante, qualcosa di mai fatto. E alla fine ora concludo con questo barattolino un po' più grande. C'è un po' l'ASMR. 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 Ok dai, allora se dovessi fare una classifica dei miei preferiti io metterei al primo posto questo, al secondo posto questa che mi è piaciuta un sacco e al terzo posto credo questo perché era un suono un po' più, con la O diciamo, un po' più chiuso, molto bello secondo me quindi, cucù, cucù, ora tocca a voi, fate anche voi una classifica, scrivetela nei commenti che io tanto li leggo tutti, tutti, tutti e quindi ora tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi, se è la prima volta che mi vedete, se siete ritornati ma non siete ancora iscritti e quindi lasciate un like, un bel commento, così magari Youtube mi spinge un po' di più sulla piattaforma e niente dai, mi fa sempre piacere se spendete un pochino di tempo per magari scrivermi un commento appunto e il video di oggi finisce qui, però se vuoi restare ancora con me, io ti lascio qua il mio video precedente qua una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere sia tutti i video che ho fatto ma anche tutti gli shorts, quindi veramente non perderteli e niente, il video di oggi finisce qui e quindi ti mando un grande grande bacio e ci vediamo tra una settimana, ok? buonanotte buonanotte